La protezione civile regionale è oggi concentrata sull'attività di monitoraggio sugli incendi dei giorni scorsi sparsi in regione, ma senza abbassare la guardia in vista della caldissima settimana di ferragosto. Tra gli ambiti di lavoro si individuano due priorità, il monitoraggio degli incendi di bosco dove nel sottobosco si nascondono i pericolosi fumaioli tra le prime cause di riaccensione di fronti improvvisi e la rete di avvistamenti e sorveglianze con volontari esperti. Sono circa 80 infatti le vedette distribuite in 40 postazioni su tutto il territorio regionale che controllano a vista eventuali principi di incendi. Sarà una settimana dura perché è molto molto calda, speriamo che non ci sia molto vento e comunque diciamo siamo pronti a intervenire come abbiamo dispiegato il massimo delle nostre forze. Noi chiediamo l'aiuto ai cittadini di segnalarci ogni segnale di fumo che vedono. Questo però devo dire che c'è già una grandissima collaborazione. E poi diciamo di comportarsi bene, ecco, tutto ciò che può innescare incendi, quindi qualsiasi elemento che può generare una fiamma di evitare. Naturalmente qualsiasi cosa bisogna fare è stare lontano dai boschi e comunque pulire l'area dove ci si trova, nel caso bisogna fare la classica arrostata, quindi nelle zone che sono già dibite o comunque pulire l'area. La protezione civile può contare complessivamente anche su 1.300 volontari abilitati allo spegnimento in turnazione con reperibilità di 15 squadre al giorno. I nostri santi volontari tra l'altro sono quelli abilitati alla lotta attiva agli incendi boschievi, fanno un'attività di prevenzione e avvistamento, ci sono dei presidi che abbiamo scelto insieme a loro, particolarmente adatti all'avvistamento. E poi ci sono le squadre pronte a intervenire, quindi squadre pronte a intervenire, che sono dislocate un po' su tutto l'Abruzzo e in pochi minuti arrivano sul posto e naturalmente cercano di spegnere l'incendio all'innesco come è successo già spesso anche quest'anno. Intanto per la protezione civile regionale cresce anche il parco mezzi, 70 quelli già presenti allestiti con moduli anti-incendio boschivo che si uniscono a quelli di proprietà delle associazioni, a cui quest'anno si aggiungono altri nuovi mezzi. Sono quelli per la formazione delle linee in montagna, questo è scaturito dall'esigenza un po' da quello che è successo l'anno scorso da Rischi e Pettino. Avendo necessità di portare l'acqua in quota, quest'anno abbiamo acquistato due moduli di capacità di 3.000 litri d'acqua che sono potenziali per realizzare le linee e portare l'acqua a 400 metri di sollevamento lungo l'appendice montana. Stiamo procedendo all'acquisto di ulteriori radiolice trasmittenti da distribuire ai volontari in modo da avere i collegamenti celeri e disporre gli interventi nel modo migliore possibile.